Le vaccinazioni nel terzo millennio sarà questo il tema al centro dell'incontro in programma per lunedì 8 maggio all'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo, un'iniziativa organizzata dall'ottor Marcello Caremani dall'onorevole aretino Marco Donati in collaborazione con la direzione generale dell'Asla Toscana Sud-Est. Abbiamo deciso di promuovere un incontro di approfondimento, ben lungi invece dalle polemiche, invece di promuovere un incontro che consenta a molti di fare chiarezza su un tema di grande importanza per l'interesse pubblico, per la libertà individuale, ma che coinvolge molti cittadini e coinvolge l'intero sistema sanitario nazionale. Su questo credo che lunedì saremo in grado di approfondire all'auditorium San Donato molti aspetti più importanti, da quelli scientifici a quelli legislativi, e perché no guardare al futuro nell'interesse dei cittadini. È stata abbassata la guardia senza dubbio, perché chiaramente non ci sono più quegli allarmi che c'erano una volta in cui le mamme si rendevano conto del rischio che correva un bambino per la polio, oppure una mamma incinta che poteva rischiare di avere un bambino malformato per la rosolia. Questo ha condizionato che dal 2015 l'allerta dimostra che sia stata una riduzione del 4-5% delle vaccinazioni in Italia, specie morbillo e rosolia. Quindi è bene ridiscutere di questo aspetto per direi non tanto convincere, ma spiegare alla gente in maniera molto chiara, molto diretta, dell'importanza dei vaccini che oggi ancora sono un baluardo importante e che i rischi sono infinitesimali. Grazie.